Il nascondiglio per gli stupefacenti lo aveva trovato nel cuore del centro storico, a poche decine di metri dalla sua abitazione. Un posto lontano dagli occhi di tutti, tranne che da quelli dei carabinieri. Così è andata male ad un 65enne sorvegliato speciale andriese, arrestato nel corso di un'operazione antidroga eseguita nelle prime ore di questa mattina da una decina di militari della compagnia di Andria. Sequestrato complessivamente circa mezzo chilogrammo di hashish che il pusher aveva abilmente occultato in uno dei tanti vicoletti della città vecchia. Una volta individuata la droga, i carabinieri hanno atteso a lungo che qualcuno l'andasse a recuperare senza mai perderla di vista e la loro pazienza è stata premiata. Alle prime luci dell'alba, infatti, violando oltretutto l'obbligo di non uscire di casa prima delle sei, il sorvegliato speciale è andato dritto verso il nascondiglio per cercare di riprendersi lo stupefacente. Cinque panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, avvolti nel cellofan e posti in un unico involucro. Disteso a terra per afferrare più facilmente l'ingente quantitativo di droga, mai si sarebbe aspettato, e tantomeno augurato, di essere aiutato ad alzarsi da due militari che dopo averlo rimesso in piedi gli hanno messo le manette ai polsi. Dopo una prima tappa in caserma per ulteriori accertamenti, l'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Trani. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie. 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 Grazie.